Tu devi perdonare. Ho capito cosa volevi dire. Tu sai che li ho avvertiti, ma era mio dovere. E anche tuo dovere è consegnarmi a loro? Perché non lo fai? No, ti supplico, lasciami. Io voglio dimenticarti e anche tu devi farlo. E va bene, ma voglio sentirti dire per l'ultima volta che non mi ami e che non vuoi più rivedermi. Io non ti amo, non ti ho mai amato, non posso amarti. Vattene. Pensavo che tu mi odiassi, ma non è così. Io volevo dimenticarti, ma mi è stato impossibile. Penso sempre a te. Ti amo e non potrò mai amare nessun altro. Ti prego, portami via con te. Sono pronta a seguirti ovunque. No, è impossibile. I miei uomini mi stanno aspettando. Ci attende un viaggio lungo e pericoloso. Non mi importa, voglio venire con te. Un giorno tornerò qui e ti porterò via con me. Non alla tortuga, ma lontano dalla violenza e dalla morte. Ma quando ritornerai? Presto, te lo prometto. Aspettami. Ti aspetterò. Chi ha trovato questo? Chi di voi ha trovato questo? L'hai trovato tu? Chi l'ha trovato? Voglio sapere chi ha trovato questo medaglione. Darò mille ducati all'uomo che mi dirà dove ha trovato questo medaglione. L'hai trovato tu? Avrai tutto il denaro che vuoi. Quello che vuoi. Ma dimmi dove hai trovato il medaglione. L'ho preso a una donna, caduta in mezzo alla strada. Sembrava morta. Portami da lì. Ines. Ines. Sapevo che saresti tornato. Non ero sicura. Non aver paura. È tutto finito ora. Non ti lascerò mai più. Ti seguirò ovunque, per sempre. Iscriviti al canale. Grazie a tutti.